Il suo è il coltello Dov'è? Il suo è il coltello Il suo è il coltello Ok Ok Prezzo Prezzo Il suo è il coltello 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 grazie a voi ah? a parte il certo il frutto freddo la sua ti il 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 No, esco un attimo. 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 Aldo. No, esco un attimo. 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 Quando? 2,94, 2,93, 2,88, allora sono 8 pezzi, 8 pezzi? Allora, Roberto Palazzo, 13.733, 1, guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Quanto? C'è anche l'anguillone. 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 ... 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